Sì, ciao a tutti ragazzi, siamo su questo nuovo video di Leontube e hanno aggiunto una nuova arma, si chiama pistola automatica si può trovare nelle casse ma esiste anche grigia, ma adesso andiamo a scoprire fino a cosa arriva giù, epica fino a leggendaria arriva andiamo a esaminarla il massimo quanto è il massimo è 19 di danni leggendaria allora adesso usciamoci dalle safe ma questo video è terminato e ci vediamo a un nuovissimo video di Leontube ciao